Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora del nostro amore, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per noi peccatori, adesso e nell'ora del nostro amore, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il principio, ora e sempre, nel secolo del nostro amore, Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseria.